Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video. Questo qui è un video davvero molto speciale poiché giorni fa mi ha contattato un'azienda che io già conoscevo, ne avevano parlato diverse youtuber che io seguo tantissimo e appunto sto parlando della Daniel Wellington. La Daniel Wellington produce appunto orologi e mi hanno dato l'opportunità di poter collaborare con loro e io sono stata davvero molto felice di questo perché anche mi chiedessero di collaborare con loro. Avevo guardato il sito e mi stavo interessando davvero tanto agli orologi perché sono davvero molto belli e adesso ve ne parlerò. Appunto loro mi hanno fatto scegliere un orologio fra i tanti che hanno e la scelta è stata molto difficile perché sono davvero tutti molto belli e adattabili a diverse situazioni, diversi outfit, hanno un design davvero molto particolare allora però alla fine sono andata sul classico appunto ho preso quello col cinturino nero in pelle e adesso vi faccio vedere il pacchetto che mi è arrivato. Allora mi è arrivato tutto in questo pacco, la spedizione è abbastanza veloce devo dire e dentro il pacco c'è questo di qua che è dove c'è la scatolina con l'orologio e poi c'è una cartolina con scritto happy holidays, anzi visto che siamo nel periodo delle vacanze natalizie e poi vabbè tutti i dettagli della spedizione. C'è la scatolina dove appunto si tiene l'orologio. Allora adesso noi la apriamo. La scatolina è questa di qua, bella, questa qui mi sembra che è l'edizione per le feste appunto. È fatta tutta così bianca con questo pacchetto rosso e poi qui c'è scritto Daniel Wellington. Abbiamo un'ulteriore scatola appunto che si apre in questo modo dove si tiene l'orologio. Anche qui tutta in pelle, presumibilmente simile pelle, con scritto Daniel Wellington, il loro logo. E poi qui c'è la cartolina dove si può scrivere se è un regalo, si può scrivere il destinatario e da chi viene fatto il regalo. Appena apriamo la scatola, è fatto in questo modo. Io ho scelto appunto questo qua con il cinto in pelle, questa qui è vera pelle perché mi sono informata perché non lo sapevo. L'ho scelto con i dettagli in oro rosato perché secondo me è davvero molto più femminile. Questo orologio è senza dubbio adatto a qualsiasi occasione che sia elegante o anche per tutti i giorni. Ci sono vari tipi di orologi, c'è anche il marroncino, c'è la fantasia quella a righe che mi ricorda molto i marirai, insomma ce ne sono tantissimi. Quindi io vi consiglio se siete curiosi di questo orologio di andare a vedere il loro sito. Vada sul classico col nero perché è più adattabile a qualsiasi outfit. Visto che siamo nel periodo delle feste penso che sia un regalo perfetto sia da fare a voi stesse sia da fare agli altri. Daniel Wellington ha pensato anche a voi poiché fino al 15 gennaio 2016 avete l'opportunità di prendere l'orologio con il 15% di sconto mettendo come codice di promozione World of Chiara. Quindi io vi scrivo qui sotto il codice di promozione e appunto avrete il 15% di sconto sulla vostra spesa. Loro sito www.danielwellington.com. La Daniel Wellington ha la free worldwide shipping, la spedizione gratis in tutto il mondo. Ovviamente tutte le informazioni che vi ho dato riguardante il codice sconto, la data di scadenza, il loro sito e tutto quanto trovate tutto nell'info box. E niente spero che per Natale sceglierete anche voi questo bel orologio perché davvero spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!